C'è stato citato Pietro Modeo, che è scomparso l'altro giorno, comunista. C'è un piccolo aneddoto. Io sono diventato giovane comunista quando e perché era segretario Enrico Berlinguer, come ho ricordato nel mio libro di qualche anno fa, ma sono stato iscritto alla FGC perché mi ha parlato della FGC Maria Omodeo, che stava a Padova, che era iscritta alla FGC al liceo e mi ha raccontato di questa. E quindi poi ho preso, sono andato a suonare lì, ho chiesto la tessera e se lo voglio ricordare perché comunque lui è stata una persona straordinaria, fino a pochissimo tempo fa, a questo sito. Nel 2022 ho partecipato a Padova, al congresso, assolutamente, straordinario. Va bene, la seconda cosa che volevo dire, io arrivando qui insieme a Zahira, mia compagna, facendo una battuta mi ha detto andiamo a questa nostra riunione di Reduci. Ora c'è un'espressione, cioè Reduci viene interpretato magari come una cosa negativa, invece Reduci è stata una grande, è stata, come quasi tutti voi avete detto, abbiamo avuto la fortuna di partecipare a una stagione, a una battaglia, di imparare, di conoscere, di ricevere e di trasmettere anche in quegli anni, veramente è una fortuna gigante. E oggi abbiamo un dovere, proprio perché abbiamo quella memoria lì, che non è quella come giustamente ricevi te prima di fare la retorica su allora o di pensare che ci possa essere una macchina del tempo. Siamo in una città, come giustamente avete detto tutte e tutti voi, radicalmente diversa, radicalmente diversa. Quanto è cambiato tutto, no? Però ci sono i valori, i valori sono quelli. E qualcuno, non so chi lo diceva prima, sì, tu l'hai detto giustamente, no? Questa esaltazione dell'io che è venuta, no? Che è venuta nel corso dei decenni, goccia a goccia, è stato proprio un sistema, no? Dobbiamo riscoprire l'altro, l'altro, l'altra, gli altri, questa... Cioè l'altro come il valore fondante di una diversa idea del mondo, no? Anche in questo slogan dell'inizio degli anni 2000, all'epoca della tragedia di Genova, un altro mondo è possibile, non era solo l'espressione dell'idea che ci poteva essere un modo diverso di vivere, quell'aggettivo era anche in qualche modo un sostantivo. E perché Papa Francesco, quando parla a tanti di noi che veniamo da questa storia, ci emoziona, lo sentiamo vicino? Perché sentiamo che esprime questi valori, non è ancora un progetto politico, ma sono valori alternativi a questa esaltazione esasperata dell'individualismo. Insomma, con una battuta si potrebbe dire reduci del futuro. Reduci del futuro. E qui vengo alla domanda sui giovani. Se è vero, non si vedono molto. Si sono visti in Friday for Future, in queste occasioni, però uno può dire sì, sono fiammate, momenti, non si vedono molto. Ma ci sono, ci sono. E non li vediamo perché sono invisibili. Perché questa società li rende non visibili nelle espressioni collettive. Poi è chiaro che ci sono i giovani nazisti tatuati con la croce celtica allo stadio che fanno il saluto romano. E' chiaro che ci sono i giovani dei branchi che nei social teorizzano la violenza o forme terribili. Ci sono, sono sempre stati e oggi si esprimono lì. Ma nel mondo giovanile e soprattutto in quello scolarizzato, qui c'è un problema. In quello che sta nel percorso scolastico. Ci sono dei valori umanamente antirazzisti. Umanamente contro ogni forma di omofobia. Io sono genitore e ho tre figli, la prima, la più grande a 30 anni e la più piccola a 15 anni. La concezione dei sentimenti e dell'amore che ha la mia figlia adorata, piccola, non c'entra più niente col mondo di cui giustamente tu hai parlato poco fa. Loro praticano, poi può piacere o non piacere, io non voglio teorizzare fluidità, io lo osservo, lo vedo, vedo la purezza di questi sentimenti, questa voglia di... Ma è già un altro mondo, è già un'altra società. Nel liceo dove sta la figlia di Zaira questa mattina, i ragazzi da soli hanno chiesto di parlare di Regeni. E hanno fatto un lavoro su questo. Le occupazioni che sono susseguite nelle scuole a Roma, io parlo di Roma perché non è che giro... Sì, giro per lavoro, per le cose di arte, ma non ho più quelle percezioni profonde. Ma c'è stato a Roma, diciamo, da ottobre fino a Natale, una serie infinita di occupazioni. Non ce n'è stata una che non abbia avuto al centro. La lotta all'omofobia, la lotta al razzismo, la pace, l'ambiente. Poi, certo, hai anche altre componenti. Poi invece hai i ragazzi che stanno fuori dal mondo scolastico, che hanno perso questo aggancio con la cultura. E lì la destra trionfa. C'è un paradosso, nelle zone più popolari, è sempre stato un po' così, ma dove magari c'è la parrocchia che riesce ancora a resistere, hai qualche sezione o circolo, non dico di partito, o culturale, o casa del popolo, ma non hai più quella presenza fisica. Anch'io simpatizzo, non me la sento di mettere una croce addosso a Elie Schlein, che sta, io non sono iscritto al PD, sono indipendente, eccetera. Ma quello che contesto, non a lei, ma in generale, è il fatto, è l'idea che la politica è vissuta solo in una dimensione parlamentare istituzionale. Succede una cosa, ho fatto l'interrogazione parlamentare, e chi se ne frega dell'interrogazione parlamentare. Andiamo in piazza, diamo voce a questi ragazzi. Lo scorso weekend, un milione di tedeschi e di tedesche, in cinque grandi città tedesche, hanno sfilato, perché sui giornali tedeschi da qualche giorno c'è il racconto delle riunioni riservate nelle quali si è ipotizzata la deportazione degli immigrati, e lì è bastata questa notizia e è venuto fuori tutto questo. Io non sto dicendo che alla prossima notizia succederà, ma io credo che sul discorso dell'autonomia probabilmente non partirà la Toscana. Purtroppo non partirà la Toscana, no, perché si teorizza che è neanche l'Emilia. Ma nel mezzogiorno, senza particolare simpatia politica per Michele Emiliano o per Vincenzo De Luca, ma dove i diritti delle persone verranno toccati direttamente sulla carne, qualcosa, vedrete che succederà nelle prossime settimane. Non voglio fare previsioni troppo ottimistiche, no? Succederà qualcosa. Allora io quindi voglio dire, insomma, senza essere troppo ottimista o troppo speranzoso, a me piace questa cosa, mi sono segnato una serie di vostre, la logistica, la logistica dei movimenti, no? Noi sì, abbiamo fatto tutte queste meravigliose esperienze, eravamo nei movimenti, chi è studentesco, chi è cosa, eccetera, eccetera, tu sei stato marxista-leninista, linea rossa, linea nera, non lo so, all'epoca c'era una divisione, no? I mille fronte unito e così via, ma alla fine cosa c'è stato? Il partito comunista italiano e il sindacato, e c'è stato, e non era tanto il PC per la sua forza organizzata, anche per quello, ma è perché aveva un rapporto con la storia, il PC era il veicolo che ti metteva in rapporto con una storia neanche solo di un secolo, ma millenaria, Spartacus, Spartaco, adesso sono gli americani che fanno una monnezza di sceneggiato televisivo su Spartaco, ma Spartaco era considerato, e tutta la storia della lotta della liberazione umana contro lo schiavismo, contro, apparteneva a noi, io una delle esperienze più emozionanti museali l'ho fatta andando a visitare il museo che Barack Obama ha voluto, ha finanziato, ha aiutato a costruire a Washington, dedicato, se vi capiterà mai di andare negli Stati Uniti, io consiglio di rinunciare a altre cose, e andarlo a vedere che è la storia dello schiavismo e della lotta contro il razzismo negli Stati Uniti, che non è terminata evidentemente, è uno dei cuori, adesso si dice che le voci dicono che i democratici si stanno interrogando se fa rinunciare Biden, magari, però Biden parla all'uomo bianco, operaio, quello stesso che Trump insidia, oppure se addirittura riuscire a convincere Michelle Obama a candidarsi. Quella è una società in pieno tormento, palesemente in pieno tormento, in cui si rischiano di cancellare decenni e decenni di avanzate che sono state fatte sul terreno civile e di meno sul terreno sociale. Quindi, a me sta bene la logistica dei movimenti, va benissimo di Garmonai come nostro ispiratore la ribellione dello spirito, forse anche abbiamo avuto la resilienza, la scoperta del termine resilienza negli anni della pandemia, adesso andiamo alla parte più collettiva, resistenza e ribellione dello spirito. Grazie a tutti.